73 esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei pesci. La chiesa ricorda Santa Letizia. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Letizia. Il nome ha origine latina e significa gioia. Allegria e buon umore sono le caratteristiche che meglio descrivono la personalità di Letizia, vivace e dotata di sottile intelligenza. Accadde oggi. Il 13 marzo del 2013 viene eletto Papa, al quinto scrutinio, il cardinale argentino Jorge Mario Bergoglio, con il nome di Francesco. La fumata bianca è alle 19.06, seguita dal rintocco delle campane. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 13 marzo ricordiamo il cantautore Luciano Ligabue e il regista Carlo Vanzina. La citazione del giorno. La giovinezza è sprecata per i giovani. È la persona matura che meglio sa come utilizzare una ricca vitalità. George Bernard Shaw. Dice il saggio. Ricordati sempre che sei una persona unica, proprio come tutti gli altri. Il bel paese. A Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, c'è uno splendido parco naturalistico di 60 ettari, eletto secondo parco più bello d'Europa nel 2015. È il parco giardino Sigurtà, che ospita innumerevoli attrazioni. A marzo e aprile si possono ammirare un milione di tulipani, che rappresentano la fioritura più importante in Italia e la più ricca del sud Europa. Da maggio a settembre lo spettacolo è offerto dal Viale delle Rose, che accoglie 30.000 rose rifiorenti. E poi sono presenti uno straordinario labirinto, 18 specchi d'acqua, dove tra giugno e luglio fioriscono le piante acquatiche e immensi prati verdi. Senza dimenticare il castelletto, commissionato dal marchese Antonio Maffei, l'eremo, un tempietto in stile neogotico, la meridiana orizzontale e la grande quercia, l'albero più antico del parco con i suoi quattro secoli d'età. Grazie a tutti.